Qual è la cucina della tradizione italiana? Le cose fanno le grandi differenze, quindi credo che il dettaglio sia la base della grande cucina e del grande cuoco professionista. La cucina della tradizione italiana? 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 La particolarità di questo spaghetto pomodoro e basilico è una parte della cottura terminata nella salsa di pomodoro, l'aggiunta del profumo fresco della menta, così come il pomodoro candito che mettiamo sopra alla fine. Queste tre cose fanno sì che sia un piatto tradizionale rivisitato in maniera corretta.